Musica Si celebra oggi la ventiduesima giornata della memoria e dell'impegno in memoria delle vittime e delle mafie promossa da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie che lo scorso primo marzo con il voto unanime della Camera dei Deputati è definitivamente diventata legge dello Stato italiano. La campagna si è data appuntamento al parco Conacol di Punticelli dove sono giunte autorità, studenti, familiari di vittime innocenti, scout ed esponenti della società civile. Alla vigilia della giornata della memoria l'amministrazione comunale ha dedicato una strada al sovrintendente della polizia penitenziaria Pasquale Campanello, ucciso sotto casa sua dalla Camorra l'8 febbraio del 1993, al quale già è intitolato il centro sociale del comune di Mercogliano, il carcere di Ariano ed un padiglione della casa circondariale di Poggio Reale. Ieri sera invece presso il Duomo si è tenuta la veglia della memoria, luce di speranza. L'iniziativa è stata voluta dalla diocesi di Avellino, Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi. Ad ufficiare messa è stato il bescovo di Ariano, Sergio Melillo. Un momento di preghiera è una veglia organizzata dalle tre diocesi Irpine, insieme all'azione cattolica, agli scout, è libera, è una veglia in ricordo per tutte le vittime della violenza, delle mafie, di tutto un sistema che sostanzialmente ha creato grandi lacerazioni anche nel tessuto delle nostre comunità. Nelle ultime ore c'è stato un duro monito anche da parte del Presidente della Repubblica che ha detto che bisogna azzerare, abbattere le zone grigie. Posso dire che la prima zona grigia è quella che portiamo nel nostro cuore, l'egoismo, il disinteresse, il voler sopraffare nei rapporti degli altri, nel chiuderci e non aprirci alla vita, non stare accanto alle persone che vivono anche grandi momenti difficili, pensiamo alla perdita del lavoro, alla difficoltà di portare avanti la famiglia, al problema della disoccupazione giovanile. Queste zone grigie dobbiamo tutti rimuoverle innanzitutto dalla nostra vita.